Quali sono i punti di fortuna di FitBeActive e in quale è innovato il mondo del piole? Il nuovo FitBeActive ha molti potenti inovativi, in particolare la resistenza di meccanica e chimica. Ha una durabilità lunga e durabilità, quindi Fit è potuto dare 10 anni di garantita, sull'installazione e sul prodotto. La flessibilità è anche un'importante specifizia del nuovo piole, per fare un'installazione più facile per gli end-users. E' anche perché gli end-users' necessità sono i nuovi driver di Fit Development.